Si è riunito in prefettura a Udine il Comitato sull'Ordine e la Sicurezza sotto la guida del prefetto vicario Gloria Allegretto. Dopo l'accoltellamento in via Roma, Borgostazione e la maxirissa tra cittadini pakistani, scoppiata giovedì pomeriggio in via Vittorio Veneto nel centro di Udine, l'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulla sicurezza in città e in provincia. Nonostante il periodo di pandemia, il controllo del territorio da parte delle varie forze dell'Ordine è stato costante e incessante. Tanti risultati, come l'operazione del 15 febbraio, che ha consentito lo smantellamento di una rete di passer che trasportavano dalla rotta balcanica i migranti sino a Gemona. Intanto continuano le indagini da parte dei carabinieri per individuare i responsabili della maxirissa dei giorni scorsi, piena sintonia di vedute sulla necessità di rinforzare la collaborazione tra polizia locale e le forze dell'Ordine, con un'intensificazione dei controlli in tutta la città, grazie alla quale non solo si cercherà di punire e con sempre maggiore efficacia certi comportamenti, ma anche di prevenirli. Intanto oggi il dispositivo dell'esercito dell'operazione Strade Sicure del Nord-Est, identificato nel raggruppamento dell'esercito Veneto-Friuli-Venezia-Giulia, si scinde con la creazione del raggruppamento Veneto e il raggruppamento Friuli-Venezia-Giulia, al comando del generale di brigata Andrea Bertocchi, comandante del comando militare esercito Friuli-Venezia-Giulia. Il generale Bertocchi avrà il comando di circa 400 militari impegnati in regione nell'operazione Strade Sicure, militari per lo più impegnati nelle fasce confinarie della regione. In provincia di Udine sono 150 i militari dislocati lungo i 340 chilometri di confine.